Sei tu, sei concentrato, sei sul pacco, sei vincente, è scoparti il pubblico! Andiamo a scopare! Così siamo tranquilli, a meno non ridiamo, bene, dai. Wow! You, I will, you! I, with, trans, Joe, Joe! W.W.L.L. W.W.L. Secondo me che sta sfidandomi. W.W.L. NO! What? What? W.W.L. No, no! W.W.L. No! No, no, no! I will fuck you! W.W.L. No, no, no! I will fuck you! Who do fuck you? Sono imitazioni realistiche! W.W.L. W.W.L. Who do you fuck you fucking alone? Ah, gli strappa il cuore E lo mangia È un colpo basso È un colpo basso Eh no Ok No Gianni è un bravissimo ragazzo Con cui poter creare insieme una solida amicizia All'interno del gioco E anche perché no, anche nella vita reale Vai Bravissimo Grande Non sei fatto niente Sono contento di non far parte di questa gag Bravo Bravo Rimbalza Oh no Bravo Bambini, non ho fatto la casa, bambini Ce ne sto sentendo male Lì mi stavo veramente sentendo male Era un male, un malessere fisico Mi sentivo anche un po' constipata infatti Oh, mi sto sentendo male Oh Vai, conta, uno, due No No Ma che bravi loro due Comunque c'hanno un'intesa Io ho capito che il wrestling è finto I colpi non sono veri Io 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 prendo questo E 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 Grazie a tutti.